Ehi, Uniurb torna in aula, lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser di soluzioni igienizzanti per tenerle pulite. Indossa sempre una mascherina per la protezione del naso e della bocca. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute, febbre, tosse o raffreddore, non venire all'università. Quando sei negli spazi comuni universitari, rispetta le distanze. Evita gli assembramenti, soprattutto in entrata e uscita, e il contatto fisico. Segui i percorsi, verde per entrare, giallo per uscire. Quando sei in aula, siediti solo sulle sedute evidenziate dagli appositi segnali. Ti aspettiamo!